Gianluca Palladino dunque, questo nono memorial, cambiata un po' la location devo dire perché eravamo abituati il clima, il clima perché eravamo abituati i pantaloncini, fa un po' più freddo però l'importante era ricordare Nico Palladino in questo memorial. Sì, questo senz'altro, ci ritroviamo oggi il 4 di novembre che tra l'altro era il compleanno di mio fratello, avrebbe compiuto 40 anni, a rifesteggiarlo con degli amici che si dimostrano sempre più affezionati nel ricordo di mio fratello e il ringraziamento mio e della mia famiglia non sarà mai adeguato per quello che trasmettono e che rendono questo momento comunque un appuntamento che si ripete già da nove anni, sperando l'anno prossimo di ripresentarci in estate con un clima più favorevole. Come hai detto appunto il clima è la cosa che conta meno, l'importante è il ricordo ma soprattutto anche ritrovarsi con tanti amici. Sì, mi ripeto, ringrazio tanti amici che non sono mancati mai e sicuramente questo rende me molto felice perché nel ricordo di mio fratello tutti partecipano, anche le persone che passano per un semplice saluto, è una cosa bella perché vuol dire che il falto calcistico rimane a sé stante ma il ricordo di mio fratello è una cosa che accomuna tantissime persone e quindi ci troviamo molto soddisfatti. Quindi accolgo pure l'occasione per ringraziare Giovanni Plescia che anche in quest'anno con un enorme sforzo perché con i problemi che abbiamo avuto per il campo ha continuato a proporsi per organizzare questo memorial che comunque si è ripetuto anche quest'anno. E infatti, come dici tu, è sicuramente importante, proprio questo volevo sottolineare, molte volte ci sono dei memorial che magari finiscono subito, invece questo di Nico c'è un grande vicinanza dimostrata da tutti, lo devo dire, lo voglio sottolineare perché anche quest'anno si è fatto un po' in ritardo però le persone chiedevano appunto quando si fa, quando si fa. Sì, sì, ma parecchi mi chiedevano anche nel paese dove io attualmente vivo, Montagano, come mai ancora non si fosse fatto il memorial. Io ci tenevo a dire a tutti che comunque si sarebbe fatto perché come dico Giovanni ci ha messo tutto l'impegno e poi dura nove anni perché sono nove anni che dura specialmente perché dopo quello che è il fatto calcistico, quello che conta più è il fatto goliardico, che ci si ritrova comunque insieme per una mangiata, per chiacchierare, per ricordare episodi della vita di mio fratello che accomuna tutti questi ragazzi che stanno qui, che si sono dimostrati amici anche dopo che lui forse non ha potuto cogliere a pieno.